riserva indipendente la musica italiana degli anni zero beh qua ne passa e ne è passata tanta servo si direi che servo di realtà è uno dei festival sicuramente del nord italia ma io direi di tutta italia che ha diciamo che porta in dote questo tipo di musica indipendente che poi in realtà è una scena non scena nel senso che è una scena musicale sono solo fino ad un certo punto perché ci sono tantissimi gruppi che fanno diciamo della musica molto diversa l'una dall'altra io direi che è più una scena sociologica nel senso che è unita appunto da network di festival di locali mediatici e così via che fanno girare in qualche modo la musica indipendente servo del sicuramente uno dei cardini a mio modo di vedere di tutto questo e quindi benvenga che questa sera ci sono lo stato sociale e gli amari che rientrano a pieno titolo direi in questo tipo di scena tra l'altro appunto lo stato sociale sono stati intervistati nel libro e prima abbiamo fatto quattro chiacchiere in amicizie insomma giusto per rimembrare i vecchi tempi cioè l'anno scorso quando li ho intervistato ecco prima scherzavo con carlo carlo vitelloni quello laggiù e gli ho detto hai intervistato un sacco di questi gruppi perché non hai pensato a fare tu un libro sulla musica degli anni zero sai perché non l'ho non l'ho pensato perché volevo andare a vedere il concerto degli amari che sta per iniziare proprio in questo momento quindi noi no no sempre con molta calma sempre con molta calma perché i messaggi sono come tweet rapidi che vanno e vengono non l'ho fatto ma lui mi sta molto simpatico per il baffo e l'occhiale ovviamente lui è l'autore di riserva indipendente quanto ne parleremo dopo almeno una 40 minuti due ore e mezzo con lui parleremo del lì cioè quanto spazio dobbiamo dargli tra un concerto e l'altro quanto vuoi sì tra un concerto e l'altro a una ventina di minuti dalla fine del concerto degli amari 10 minuti 10 minuti quando volete io io sono qua in zero vengo qua immediatamente va bene benissimo il concerto è cominciato quindi io direi capiamo se siamo pronti andiamo sfumiamo andiamo direttamente sul palco noi torniamo al timer del 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 set ciao a tutti ciao ciao